In base ai dati dell'Agenzia delle Entrate, sono oltre 27.000 le case sfitte a Ravenna, primo grande comune in Italia, con la percentuale più alta di case non occupate, oltre una su quattro. La causa, secondo Silvio Piraccini, presidente di Aspi, associazione provinciale che riunisce piccoli proprietari, è da ricercare nei tanti appartamenti edificati e non venduti che le società costruttrici decidono di tenere vuoti. Per Ravenna credo che il fatto di avere degli appartamenti, delle case sfitte, siano più che altro da imputare al fatto che Ravenna ha parecchie case in vacanze. Cioè molte persone hanno la casa al mare e la utilizzano per se stessi, per le proprie famiglie, per andare in villeggiatura a Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, per alcune settimane all'anno, ma poi per il resto la lassi hanno vuoto, quindi probabilmente questo è l'effetto. E poi a Ravenna si è costruito molto e molto è invenduto, quindi credo sostanzialmente che l'invenduto a Ravenna faccia la parte del leone sotto questo aspetto. E per i 1400 del comune iscritti all'Aspi che affittano, i problemi non sono pochi. Il problema dello sfratto, del non vedersi pagato l'affitto, è sempre presente. Questo problema è sensibilmente ridotto, però c'è sempre. La causa noi la imputiamo evidentemente, poi ci sono chi ci marcia, come si dice in gergo. Però molto è dovuto al fatto che c'è la crisi, quindi uno perde il lavoro, quindi la prima cosa che fa è non pagare l'affitto.